Erano i giorni di pandemia Covid-19, in quel tempo terminai la maturità e decisi di recarmi al campus universitario di Savona per iscrivermi all'università. Entrai allo sfruttare lo studente e mi fu comunicato che, a causa pandemia, l'iscrizione doveva essere fatta online. Così è stato e così ho portato a termine questi tre anni al campus di Savona. Grazie a tutti.